e buongiorno e bentornati a il mattino allora in podcast la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata io sono sempre il vostro leo varion e che dire signori che dire tra i show di netflix veramente c'è poca roba c'è veramente pochissima roba che riesce ad esaltarsi riesce veramente a saltare soprattutto alla mediocrità che che contraddistingue questa piattaforma come tante altre piattaforme ci mancherebbe veramente c'è veramente talmente poca roba che quella poca roba che veramente si sa che è bella riesce a risultare così spaziale letteralmente spaziale sopra tutte le altre e visto il tema di oggi insomma avrete già capito di cosa sto parlando visto il titolo ebbene sto parlando naturalmente di rick and morti la serie appunto creata da due fantastici sceneggiatori già justin roland e den armon già vi siete scordati i loro nomi mi rendo conto anch'io sinceramente però che questi qui veramente si sono lanciati in una grande grandissima sfida quando hanno presentato al pubblico il loro progetto che all'inizio era solamente una parodia di doc e marty c'è nel canale ufficiale di rick and morti su youtube c'è un appunto un corto anzi una serie di corti di puntate con le avventure di questi di questa versione parodia di doc e marty quindi andatelo a vedere perché già da lì si poteva capire il grado di follia che loro volevano raggiungere ma prima ovviamente di andare di andare a vedere i dettagli di rick e morti in tutta la loro bellezza andiamo a salutare voi tutti che siete qui in chat questa mattina veramente i tre dell'ave maria come si come si come si suol dire perché ci sono ovviamente il nostro capo immenso supremo simone pizzi c'è il fantastico walter sbano anche qui che reduce della sua puntata di delle orazioni della sera che finalmente sono riuscito ad ascoltare ieri sera in diretta puntata molto molto interessante andatevi ad ascoltare le orazioni della sera come tutti gli altri programmi di runtime le orazioni è un programma speciale veramente condotto da veramente da un one man show ovvero walter che si sta insomma si sta facendo le ossa dopo la sua esperienza con arg con una trasmissione live in solitaria però devo dire che queste prime che queste puntate insomma queste prime settimane stanno andando molto molto bene comunque e poi c'è il nostro buon lobby che nel frattempo porta avanti la sua battaglia con sul del partito che schifo i francesi ma qui non si fa razzismo ragazzi poi ce lo facciamo fra di noi naturalmente però lo sta facendo non so in che modo non sto seguendo benissimo cosa stai facendo pace tra i mondi a tutti esatto caro caro lobby perché insomma pace tra i mondi ovviamente in questa maniera voi lo sapete che ricca morti vive di citazioni anche di questo tipo ma prima appunto di buttarci come sempre nelle fauce della follia come dico sempre in questo caso poi fauce della follia molto colorate molto fantasiose sigla del venerdì la serie animata ricche morti è stata creata da justin roland e dan harmon il duo si è incontrato per la prima volta al channel 101 un festival mensile dedicato ai cortometraggi che si svolge a los angeles cofondato da harmon durante il channel 101 i partecipanti presentano un loro cortometraggio nel format di episodio pilota e il pubblico in diretta decide quali episodi potrebbero diventare una vera e propria serie roland allora produttore di reality iniziò a presentare contenuti propri ai festival un anno dopo il solano un anno dopo il suo lancio nel 2004 i suoi pilot erano tipicamente costituiti da elementi malati e contorti che nel pubblico generavano reazioni alquanto confuse tuttavia harmon prese in simpatia il suo umorismo e iniziò a collaborare con lui e questo è l'inizio della grande storia di ricche morti raccontato ovviamente da wikipedia ovviamente e stiamo ovviamente parlando come dicevamo di ricche morti già dall'inizio portando portando fuori citazioni come quella del dito medio perché perché ragazzi ricche morti è una di quelle serie ripeto come avevo detto all'inizio della puntata che non solo vive di citazioni vive di così di questi momenti particolari ma vive soprattutto ma è una serie meravigliosa una serie che spicca veramente su tutte le altre di netflix e ogni volta che esce una nuova stagione di questa di questa nuova di questo di nuovo dio di questa di questa serie tutto il pubblico veramente è felice di questa cosa e io prima di tutti sul serio perché è che morte è qualcosa che ti sveglia davvero da da un torpore da una da un momento sul serio di di apatia totale ti riporta un po la follia la voglia di immaginare la voglia e soprattutto il coraggio di immaginare di portare sullo schermo delle cose che potrebbero non essere capite potrebbero essere completamente assurde ma soprattutto la forza di ricche morti è quella di ricorrere veramente ad un ad una scrittura ad un modo di portare avanti la puntata che non non si prende tanto sul serio o quantomeno se lo fa lo fa per le cose giuste per raccontarti veramente una storia seria ma esattamente nello stile di ricche morti sto già iniziando a perdere così a perdere la palla anche se quello che succede in ricche morti è che loro ti credono ti vogliono far credere di aver perso il controllo della puntata ma così non è perché quello che ci racconta ricche morti questa serie non è solamente le avventure sgangherate di un duo nell'universo no ci racconta qualcosa di molto più profondo qualcosa di molto più importante ovvero la possibilità di fare di tutto ci racconta un universo fatto di possibilità incredibili ma soprattutto ci racconta ci racconta come se tu hai il coraggio di prendere la vita se vogliamo a piene mani tutto ti potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa ok certo è una serie che vive anche di fortissimo cinismo che ci racconta veramente come le cose possono andare veramente in merda anche alle persone più buone ci racconta che alle volte devi essere veramente un gran bastardo se vuoi sopravvivere a un universo che alle volte sembra veramente coincidere tutte le sue forze voleva far collidere tutte le sue forze contro di te e rick per l'appunto rick e morti entrambi si trasformano in realtà non in dei semplici personaggi ma in dei veri e propri archetipi archetipi che infatti vengono secondo me spiegati magistralmente nelle puntate in cui si tratta il tema della cittadella ma andiamo con ordine per chi non avesse mai visto rick e morti e volesse approcciarsi alla serie ecco le premesse generali nata come una serie che voleva parodizzare appunto doc e marty ripeto andatevi a vedere il cortometraggio insomma pilota di rick e morti vedrete veramente le cose più assurde io ne ho visto un pezzettino solamente stamattina prima di venire qui a fare la diretta e ci sono rimasto abbastanza è ok ci sto dentro amico e ci sono rimasto abbastanza così sconvolto perché davvero ho visto cose allucinanti ma vabbè poi ripensando a tutta la serie è stata è stato anche un dirsi e vabbè però dovevo aspettarmelo comunque dicevo nata come una parodia in realtà come tante altre cose come poteva essere bat come poteva essere ratman per l'appunto prende la sua strada inizia a raccontarti una storia che ovviamente è molto diversa da quella di ritorno al futuro rick e morti è la serie che parla di questo scienziato rick sanchez che chiede ogni tanto a suo a suo nipote anzi lo rapisce letteralmente ogni tanto prende il suo nipote di 14 anni morti figlio di sua figlia bet e lo coinvolge praticamente in delle strambe avventure nei in giro per l'universo e queste qui di solito che partono con il pretesto di essere delle semplici avventure morte e fuggi si trasformano ovviamente in una catastrofe ovviamente però la serie non ci racconta solamente degli episodi autoconclusivi e basta cioè sarebbe stata ovviamente una cosa molto facile molto molto semplice da fare assolutamente ma la serie decide di andare oltre di raccontarci per per l'appunto dei personaggi che sono molto tridimensionali che hanno tutti quanti una loro dignità se vogliamo ma hanno tutti le loro peculiarità e soprattutto li rendono veramente veramente vivi infatti scopriamo che nella famiglia insomma tutti hanno qualcosa tra virgolette di speciale ecco bet la figlia di di rick per esempio vive una crisi di abbandono totale dal padre che che quando lei era piccola partì appunto per iniziare le sue esplorazioni dell'universo e i suoi viaggi in solitaria per l'appunto e lei alla fine decide di così di sposarsi e di mettere su famiglia ma quando il padre finalmente ritorna ritorna da lei lei diciamo è molto impegnata a quel punto a cercare l'approvazione di quest'uomo che ha sempre mitizzato idealizzato nella sua testa e questa cosa genera ovviamente malcontento all'interno della della coppia della coppia appunto formata da bet e da suo marito jerry jerry è un uomo molto semplice un uomo assolutamente sì anche lui non molto sveglio esattamente come morti e che diciamo vive abbastanza la giornata è un omuncolo è una persona molto fragile è una persona sicuramente timida e con poche caratteristiche positive se non quella appunto di essere un tipo un po così un po ripeto che che piace a tutti ma rimane comunque una persona che all'interno della famiglia viene un po definito lo sfigato di turno ecco e che non riceve nessun rispetto da parte degli altri componenti della famiglia poi c'è summer ovviamente la sorella maggiore di morti che è quella praticamente su cui si convertono delle linee di malcontento se vogliamo dei genitori perché perché bet per esempio è rimasta incinta molto giovane di di summer e quindi non ha potuto non ha potuto studiare per diventare un un dottore di umani e ha dovuto tra virgolette accontentarsi di diventare un veterinario per per cavalli e questa cosa diciamo ogni tanto viene rimarcata anche da jerry insomma che con delle frecciatine le fa capire insomma che la sua vita un po tra virgolette è finita ecco ma vabbè sì è una coppia assolutamente disfunzionale è una coppia che che ha tanti problemi una famiglia che ha tanti problemi e poi c'è morti morti ecco è un ragazzo particolare all'interno dell'equilibrio familiare perché lui è quello che di solito viene rapito dal nonno per per queste avventure in giro per l'universo è quello che salta sempre la scuola è quello che appunto diciamo in una puntata si lamentava del fatto appunto che non riusciva ad andare a scuola per colpa delle avventure con il nonno e che non sapeva un cavolo cioè ho 14 anni ho fatto in un anno di scuola ho fatto 8 ore di lezione non so un cavolo ti prego fammi andare a scuola addirittura è lui da 14 anni a chiedere al nonno di poter andare a scuola ha questa perenne cotta per la sua compagna di scuola jessica la classica più bella della scuola quindi si gioca anche fortissimo su questo stereotipo che viene ogni volta diciamo decostruito è ricostruito in diverse forme e il bello appunto di rick morti è proprio questo che si gioca tantissimo su sugli stereotipi li si veramente li si fa pezzetti li si guarda dall'interno poi li si ricompone in maniera completamente disordinata infatti è bello perché ogni tanto si jessica conosce morti ogni tanto diciamo quasi che si dimentica di lui ogni tanto ci viene fatto intendere che in realtà lei prova qualcosa anche lei per morti insomma non si capisce mai bene che rapporto hanno questi due si sa solo che morti diciamo come qualsiasi ragazzo 14 anni ha gli ormoni impazziti ogni tanto ha questa fortissima tendenza a volersi toccare là sotto insomma ha tutte queste caratteristiche ecco da ragazzo 14 anni ma ripeto rick e morti nella loro essenza all'interno della serie diventano dei veri e propri archetipi narrativi non sono semplicemente dei personaggi all'interno di un contesto sono delle vere e proprie rappresentazioni di modi di essere per esempio rick si rappresenta la genialità ma al tempo stesso è un'allegoria di come funziona l'universo ovvero che un giorno gli prende bene inventa delle cose fantascientifiche è super efficiente ma il giorno dopo magari è il reduce della più grossa sbronza della sua vita e quindi non riesce a fare niente insomma ma diciamo che quello che lo contraddistingue sempre è la sua fortissima genialità che lo salva ogni volta infatti probabilmente lui passa più tempo ad inventare attrezzi per evitare di morire per i suoi stessi errori che altro insomma secondo me ci sono richiami non troppo velati anche a Doctor Who ma io penso che qualsiasi serie di fantascienza barra fantasy è stata presa ma qualsiasi serie in generale è stata presa da rick e morti proprio perché la sua natura è quella di esplorare per l'appunto le possibilità che vengono offerte da che vengono offerte praticamente da qualsiasi cosa ecco le possibilità che l'universo ti offre e quindi sì ci sono rimandi a qualsiasi cosa ci sono citazioni continue a qualsiasi film serie tv della cultura popolare insomma ci sono le puntate in cui loro giocano a minecraft che ne so in realtà ripeto rick e morti non fa non fa non nasconde non fa segreto di prendere a piene mani tutto questo e di ripeto scomporlo e ricostruirlo come gli pare per costruirci diciamo delle trame che sono assurde poi ci sono degli episodi che sono particolari perché rick pur di lasciar correre una qualsiasi situazione preferisce mettere su un piano allucinante assurdo per dimostrare di avere ragione sul nipote o su chi gli passa davanti c'è per esempio una puntata in cui lui praticamente vuole smentire completamente morti sulla validità di un suo piano vado a raccontarvela anche se raccontarvela appunto non riuscirebbe mai a restituirvi l'assurdità di tutto questo allora rick deve incontrarsi praticamente con dei mafiosi con dei mafiosi ovviamente alieni cioè qui praticamente è tutto alieno loro partono nello spazio ma alla fine rincontrano praticamente le stesse situazioni che potreste che si potrebbero incontrare sulla terra quindi se si fermano in una su un pianeta di solito è un pianeta che magari è una versione strana della terra come per esempio il pianeta quello lì dove dove si ripropone per esempio il film il giorno del giudizio quello lì sullo sfogo il classico film sullo sfogo annuale in cui un giorno all'anno tutto è legale quindi tutta la gente si dà la pazza gioia però è un pianeta a tema mormone praticamente tema mormone western e poi ripeto poi ci sono situazioni assurde come questo episodio in cui loro vanno a fare questa sorta di scambio tra mafiosi loro si devono portare questi cristalli blu che devono scambiare con dei cristalli rossi non ci viene spiegato benissimo oddio o meglio non mi ricordo se viene spiegato benissimo a cosa servono questi cristalli ma non importa praticamente Rick a un certo punto prima che loro entrino dentro la fabbrica si gira verso Morti e gli dice Morti ascolta se le cose si mettono male noi ci dobbiamo tuffare in una finta vasca di acido a cui all'interno ho nascosto delle finte ossa così da far credere che noi appena ci siamo buttati dentro siamo morti appunto disciolti nell'acido e quindi il piano è questo praticamente Morti inizia subito a lamentarsi della validità della scarsa validità di questo piano di questa idea stupida e Morti scusa e Rick se la prende molto molto male per questa cosa e quindi loro vanno il piano appunto viene messo in atto perché la situazione ovviamente si rivela pericolosa e si fiondano in questa vasca di acido finto che in realtà è una sorta tipo di cedrata insomma ha questo colore verdino che ricorda l'acido ma in realtà è un liquido di nessun che non serve assolutamente a niente si tuffano in questa vasca di acido e si mettono tipo le maschere per respirare sotto questo finto acido e nel fondo di questa vasca di finto acido Rick ha messo una botola con scritto ossa in caso di piano fallito e le fanno partire per far credere appunto facendo galleggiare queste ossa per far credere che loro sono morti in questa vasca di acido ma il bello è che poi questi mafiosi si mettono lì perché non credono affatto che loro siano morti all'interno di questa vasca di acido e si mettono a guardare per vedere se succede qualcosa e alla fine comincia tutta una serie di scamutaggi incredibili per riuscire ad uscire fuori da questa vasca di finto acido e alla fine morti si rompe le scatole prende una pistola laser spara a tutti e tre a tutti e tre mafiosi e scappano via e la puntata è semplicemente un grande grandissimo piano di Rick praticamente alla fine per far ammettere a morti che lui in realtà aveva ragione che la cosa della vasca di acido in realtà era un buon piano ripeto raccontarlo così sicuramente non rende la genialità ma voi immaginatevi una riunione fra sceneggiatori che devono decidere come costruire il prossimo episodio di Rick e Morti loro si mettono qui e si mettono a raccontarsi a vicenda questa storia ma io che ve la racconto è noiosissimo così cioè è stupido non prendereste mai in considerazione questa roba e invece c'è chi riesce a vederci lunghissimo su queste cose riesce a costruire un episodio partendo da un presupposto che è letteralmente una stronzata e riesce a mettere su tutta una roba particolare che poi si concluderà con un episodio che è fra i più epici in assoluto certo non è fra quelli più memorabili ovvero quelli che ci ricorderemo in futuro ma secondo me a rivederlo oggi è un piccolo capolavoro di scrittura appunto che ci fa capire come il lavoro dello sceneggiatore davvero è diventato qualcosa di impressionante in certi contesti io alle volte mi fermo dopo che ho guardato robe del genere mi insomma mi chiedo davvero quanto deve studiare uno sceneggiatore per arrivare a quei livelli di follia veramente per mettere su una roba di questo tipo non lo so però resta il fatto che il risultato è di un'ottima scrittura secondo me è una serie che è come quella che è come questa come Rick e Morty per l'appunto e quelle che vengono dopo secondo me dopo di lei hanno solo da che imparare per esempio io sto vedendo oltre a fare il rewatchione di Rick e Morty sto vedendo assieme alla mia ragazza un altro cartone molto simpatico che vi consiglio che non può che essere figlio di Rick e Morty davvero perché non è fatto dagli stessi creatori ma secondo me prende a piene mani secondo me anche io ho trovato diverse citazioni o quantomeno dei rimandi a Rick e Morty non so quanto voluti non so quanto voluti ovviamente e si chiama Inside Job che racconta praticamente del deep state quindi prendono tutti questi complottoni incredibili della cultura popolare le scechimiche i rettiliani i ricchi che che in realtà sono dei vampiri insomma l'adenocromo tutti questi complotti deficienti e li mettono al servizio appunto di una trama e parla di questa di questa donna e del suo gruppo di di collaboratori che devono per l'appunto portare avanti i piani per far sì che i complotti mondiali continuino ad esistere che insomma la terra cava gli uomini talpa insomma tutte queste cose che vengono utilizzate come pretesto appunto per fare dell'umorismo molto carino Inside Job ve lo consiglio fargli direi assolutamente però ripeto secondo me è figlio di Rick and Morty o quantomeno di quel tipo di narrazione allora che dite che dite suggerisco Lover Dex sempre degli stessi autori di Rick and Morty ambientata nell'universo di Star Trek pur essendo un mix potenzialmente assurdo il risultato è geniale anche se per ovvie ragioni non arriva ai livelli malati di Rick and Morty però porta un po' di sangue e merda in Star Trek a proposito di episodi che partono da una minchiata assurda I'm Pickle Rick ecco allora si prendiamo il suggerimento quindi anche di di Simone perché le serie animate ripeto che nascono dopo Rick and Morty davvero e che prendono ispirazione da lei o quantomeno più che ispirazione diciamo prendono coraggio da Rick and Morty secondo me vanno vanno insomma valutate perché ripeto non è tanto il fatto di prendere ispirazione perché sia Inside Job sia questa cosa che ci che ci ha suggerito Lower Decks evidentemente non hanno dei rimandi o comunque o delle fributate da Rick and Morty possiamo essere sicuri che abbiano del contenuto molto originale quello che secondo me hanno preso da Rick and Morty ripeto è il coraggio di raccontare qualcosa di assurdo partendo da delle premesse che sulla carta possono non convincere completamente gli spettatori o in generale chi produce queste serie perché il primo ostacolo naturalmente è convincere quello lì che poi ti finanzierà il progetto poi il secondo ostacolo è quello di far piacere la cosa al pubblico naturalmente e ogni volta che qualcuno mette in atto questa cosa fa una grande scommessa e Rick and Morty è una grande scommessa perché davvero è una serie che io non ho idea di quanto costi fare la serie di Rick and Morty ma di sicuro non costa poco ci sono però non è nemmeno sai quello non è nemmeno una di quelle serie piene di effettissimi specialissimi incredibili no è tutto un'animazione classica l'unica cosa sicuramente che che può costare diciamo un po' di fatica secondo me a livello di CGI effetti speciali è quando Rick spara con la sua iconica sparaporte ovvero quella che genera i portali che lo portano per l'appunto in ogni angolo dell'universo cos'altro dire di Rick and Morty in realtà c'era una cosa che ci stavo riflettendo proprio questa mattina prima di venire qui è che in realtà la serie di Rick and Morty non parla di lui che affronta diversi pericoli in realtà se andiamo a vedere il più grande nemico di Rick è Rick stesso e questo lo si capisce per alcuni motivi perché innanzitutto lui ci viene presentato come l'essere più geniale dell'universo e anzi molte delle sue avventure si concludono veramente sempre sempre allo stesso modo ovvero che lui alla fine mette su un da zero un piano incredibile per fare quello che gli pare e il nemico di turno si ritrova appunto completamente sventrato dalla genialità di Rick ovviamente ma lui stesso ad annoiarsi come per esempio nell'episodio in cui lui alcuni morti e alcuni eroi che scemmiotano un po' gli Avengers o anche la Lega della Giustizia visto che è tutto ambientato nello spazio insomma si può prendere a piene mani da entrambi i franchise e quindi questo strano gruppo di eroi e anti-eroi si trovano ad affrontare una gravissima minaccia interplanetaria che però per Rick è una di quelle cose sai da fare in 5 minuti infatti lui alla fine di quella puntata si scopre che aveva già sconfitto il nemico da ubriaco andandoci un attimo così e nel frattempo aveva passato tutto il tempo a mettere su tutta una serie di trappoli incredibili proprio per i vendicatori stessi che si ritrovano per l'appunto a morire uno dopo l'altro a causa delle trappole di Rick appunto un'altra di quelle puntate che ti fa capire che il più grande nemico di Rick è Rick stesso poi come finisce la quinta stagione in effetti capiamo molto del personaggio di Rick e si dà veramente un tono di serietà a questa serie che che cavalca completamente l'assurdità che ci viene raccontata ma ci racconta anche una storia molto triste perché Rick per l'appunto lui paga lo scotto di essere la persona più geniale del suo stesso universo paga il fatto di aver inventato il viaggio interdimensionale che è una di quelle cose che in tutto l'universo viene appunto viene richiestissima è uno dei motivi per cui lui viene viene cacciato viene viene braccato da da chi che sia perché tutti vogliono la tecnologia della sua sparaporte che evidentemente è l'oggetto più ambito di tutti c'è la possibilità di viaggiare fra le dimensioni istantaneamente e senza nessuna conseguenza insomma la possibilità appunto di poter cambiare realtà in un secondo così senza nessun ripeto senza nessun danno senza nessuna conseguenza ecco e questa cosa diventa appunto motivo di tanti tanti problemi per Rick perché poi nella fine della quinta stagione si scopre che in realtà lui ha inventato il viaggio interdimensionale perché la sua famiglia è stata uccisa da Rick di altre dimensioni appunto e quindi lui ha cominciato a viaggiare fra le dimensioni per appunto per cercare gli assassini della sua della sua stessa famiglia ma col tempo questa caccia lo ha sempre di più logorato dentro ed è diventato sempre più un un disilluso si è sempre di più distaccato se vogliamo dalla lotta si è stancato di tutto e alla fine ha perso completamente l'entusiasmo quindi quello che fa lo fa completamente senza interesse ed è anche questo uno dei piccoli insegnamenti di Rick e Morty cioè il non cioè il farsi sopraffare dalla vita e il e il perdere completamente l'interesse per le cose che ti fa perdere anche l'entusiasmo nei confronti dell'universo stesso e di tutte queste possibilità no però è anche questo il punto che Rick è una persona eternamente insoddisfatta e tutto il multiverso non gli basterà mai per colmare il vuoto della sua anima e questo secondo me è fantastico di Rick e Morty che ti insegna anche questo che sì io potrei veramente raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita ma la verità è che l'unica cosa che conta io non la posso trovare al di fuori di me io l'unica cosa su cui posso lavorare sono io stesso però è bello che se se una puntata di Rick e Morty davvero arrivasse a questo punto arrivasse al punto di farmi questo insegnamento nella maniera più smaccata possibile potrebbero magari smentirmi a fine puntata e dirmi no in realtà era tutta una cazzata non ti ho voluto insegnare assolutamente niente tutto quello che hai appreso in realtà io non avevo nessun interesse a dirtelo o a fartelo pensare assolutamente ed è questa la bellezza cioè che l'universo cioè quello che ci viene raccontato una cosa legata alla nostra individualità se noi veniamo cresciuti in un certo modo se viviamo in un contesto particolare se siamo la versione migliore o peggiore di noi stessi se siamo la versione malvagia cowboy vespa nazista di noi insomma Enrique Morti ci dice tutto questo ce lo dice in una maniera colorata incredibile funzionale veramente a gag e a situazioni assurde che poi trovano trovano il loro compimento veramente in episodi in cui succede veramente la qualunque però ripeto ogni parola che possiamo aggiungere sul cercare di spiegare Rick e Morti sarebbe una parola di troppo quindi lascio la parola magari a voi in chat se avete qualche commento da fare sulla serie se avete appreso se avete riflettuto mai sul significato profondo di Rick e Morti se avete pianto riso o se non avete fatto assolutamente niente alla vista di questa serie tanto qualsiasi sia la vostra opinione probabilmente non cambierà una virgola un accidente di niente nell'universo e detto questo signori allora nel frattempo si Simone ci ha droppato in chat ci ha lasciato in chat il link per Lower Decks quindi grazie Simone mi pare di aver visto allora il trailer di questa di questa serie che la trovate da quanto da quanto vedo su Prime Video più diverso parlerei di universi esatto lobby tanti universi paralleli soprattutto universi paralleli di cui apprendiamo definitivamente l'esistenza nell'ultimissima puntata della quinta stagione di Rick e Morti in cui vediamo il peggior nemico di Rick che è un Morti malvagio un Morti che non gli vuole più bene un Morti che vuole vuole allontanarsi completamente dalla follia dei Rick e vivere in un universo in cui lui non c'è semplicemente non esiste però si potrebbe parlare veramente per ore del significato criptico dell'ultima puntata che abbiamo visto dell'ultima dell'ultima stagione per l'appunto ma ci terremo queste domande quando andremo magari ad analizzare la sesta stagione di Rick e Morti che arriverà l'annuncio è stato rilasciato quindi ci sarà ci sarà assolutamente dunque 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 non so se la quinta stagione sì no in realtà non è stato aggiornato ancora il signor wikipedia ma stavo vedendo qualche notizia stamattina e si sa che appunto Rick e Morti torneranno con una sesta stagione e noi non vediamo l'ora quantomeno io non vedo l'ora di vederla assolutamente e detto questo signori quali fantastici ricordi avete di Rick e Morti quale curiosità avete su questa serie o quali dubbi avete sul vederla o meno io mi sono un attimo così dilungato e poi gli dice i morti esatto i morti o i mortacci con la y nella fine se avete qualche dubbio se avete qualche domanda se avete assolutamente qualcosa da dire su questa serie ovviamente ditecelo sul nostro gruppo dirette runtime radio oppure no se volete dircelo ditecelo lì assolutamente perché è il nostro gruppo di discussione su telegram seguite anche il nostro canale ufficiale quindi runtime la radio geek per per essere sempre aggiornati su quello che succede sulla nostra meravigliosa radio quindi non perdetevi questa occasione fantastica e seguite i nostri podcast perché c'è sempre qualcosa di nuovo di bello di magico su runtime radio che è un po' la nostra versione del multiverso di Rick and Morty in cui veramente potreste trovare di tutto e basta basta devo dire così per gli annunci siamo a posto poi poi se vogliamo fare ulteriori annunci dunque dunque no stasera non ci sono le orazioni della sera perché mi pare che il giovedì sia l'ultima puntata della settimana martedì mercoledì giovedì se non sbaglio caro Walter ridicelo in chat ma comunque domani dovrebbe esserci dovrebbe esserci di nuovo Michela De Paola con disordinati informati domani mattina che è sabato quindi fateci fateci sapere anche voi Simone e Michela se questi appuntamenti annunciati sono corretti Walter ci dice di sì quindi martedì mercoledì giovedì ci sono le orazioni della sera dalle 20 alle 20 e 30 Simone e Michela torneranno domani con le orazioni no con disordinati informati e questa trasmissione invece tornerà tornerà lunedì con con la puntata con la classica puntata del lunedì in cui racconteremo delle storie particolari anche se sto cercando un format alternativo per il lunedì sto cercando insomma un modo per rendere il lunedì un po' più accattivante se no mi annoio pure da solo a farlo alle volte perché insomma è così soprattutto mi annoia magari fare delle cose troppo simili magari ad altri programmi perché adesso abbiamo se vogliamo tre tre spazi in cui parliamo di notizie almeno quindi c'è sia il lunedì con il mattino loro in podcast in cui ogni tanto vi lascio una notizia e ne parliamo assieme poi abbiamo ovviamente le orazioni della serie che vive naturalmente esattamente come OGM di notizie di news e di discussione anche se Walter sta facendo un ottimo lavoro per differenziare un po' il suo format e poi ovviamente ci sono Michela e Simone con disordinati informati che vivono appunto di notizie quindi sto cercando anche il modo di rendere il lunedì un po' più particolare ecco per far sì che questo non sia solamente un episodio random della settimana ma mi verrà in mente qualcosa signori ci verrà in mente qualcosa cosa fare di lunedì ma sappiate che lunedì sceglieremo anche il nuovo libro game da portare avanti mercoledì prossimo quindi siateci datemi una mano a scegliere fra i titoli che abbiamo a disposizione per continuare la nostra fantastica il nostro fantastico format del mercoledì e basta signore detto questo possiamo approcciarci alla fine di questa puntata e ovviamente non posso far altro che ringraziarvi della vostra presenza della vostra costante partecipazione a questa trasmissione che non sarebbe niente senza di voi grazie veramente tanto e insomma io vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti